Mente quantistica, come trasformare la realtà? La mente quantistica permette di utilizzare i pensieri e i sentimenti, le emozioni, per influenzare significativamente la realtà. Cioè il concetto è che la nostra realtà interiore può trasformare la realtà esteriore, l'esperienza che andiamo a fare. Tutto ciò che ci accade fuori è influenzato da ciò che viviamo dentro, dalle nostre convinzioni, dalle nostre credenze. Quindi andando a modificare la nostra parte interiore, andando a modificare il nostro interno, modifichiamo l'esterno. Tutti noi abbiamo il potere di scegliere anche le illusioni che ci motivano. È bene sapere dunque cosa si intende per mente quantistica. Tutti gli esseri viventi sono formati da atomi, sono formati da particelle e queste particelle che sono energia sono in gran parte vuoto. Quindi noi attraverso la nostra mente possiamo influenzare le particelle, attraverso la nostra mente possiamo influenzare la parte esterna della nostra realtà. I fisici quantistici hanno scoperto che comunque gli atomi sono influenzati dal pensiero. Gli esperimenti quantistici dimostrano che gli elettroni esistono come infinite possibilità in un campo di energia. Quindi soltanto quando avviene il collasso della funzione d'onda si manifesta, appare l'elettrone. Una particella è un quasi reale, non può manifestarsi nella realtà, cioè non può manifestarsi nello spazio-tempo finché non viene osservata. Quindi osservare cosa significa? Significa direzionare un pensiero, significa direzionare un'intenzione. Quindi noi possiamo, abbiamo questo potere di direzionare attraverso le nostre emozioni, attraverso la gestione delle nostre emozioni, ho fatto tantissimi video su come gestire le emozioni e su come creare la realtà. Quindi i nostri pensieri e sentimenti hanno un potere di influenzare il campo quantico e quindi di influenzare la nostra percezione della realtà e quindi la realtà stessa. Tutte le esperienze esistono potenzialmente come impronte, diciamo, nel campo quantistico. Quindi abbiamo un'infinita possibilità e noi possiamo cambiare il nostro modo di vedere le cose e cambierà la realtà che andiamo a percepire. Ma approfondirò questo video con altri video. Ciao a tutti, seguimi su Instagram, su TikTok e su YouTube. Ciao a tutti!